Turismo, prima industria del Veneto con 17 miliardi di fatturato. E la città del Palladio, con tutta la provincia berica, una delle zone che cresce di più. Nel 2018 viene segnato un più 5,2% di arrivi e un più 1,7% di presenze. Numeri migliori della media regionale, che si conferma su livelli alti. Un trend molto positivo per l'anno 2018. La sfida ora è continuare a farlo crescere.